Buongiorno a tutti e bentornati nella congrega del terrore. Ripetiamo un format che il mese scorso vi è particolarmente piaciuto, cioè quello su chat GPT. Anche questo mese ho provato a chiedere per l'appunto all'intelligenza artificiale di scrivermi uno script per un video, prendendo spunto da alcune delle vostre proposte che mi avete lasciato sotto nei commenti. Allora, devo dire che questa volta non è andata così bene, ma tra poco vedremo. E come potete immaginare dall'immagine qui dietro e come sicuramente avrete capito anche dal titolo e dalla copertina, ho provato a chiedere a chat GPT di raccontarmi la vera storia che ha ispirato Halloween e nello specifico il personaggio di Michael Myers. Partiamo dall'inizio e parliamo del film. Halloween è un film del 1978 diretto da John Carpenter. La storia si svolge nella tranquilla cittadina di Eddonfield, in Illinois, dove una giovane babysitter di nome Laurie Strode diventa il bersaglio di un misterioso assassino proprio durante la notte di Halloween. E questo implacabile assassino viene chiamato Michael Myers e indossa una maschera bianca. Il film segue tutti i disperati tentativi di Laurie di sfuggire dalle grinfie di Michael Myers, mentre questo continua ad inseguirla senza sosta. Ma da dove arriva questo film? Allora, sicuramente John Carpenter ha avuto tantissime ispirazioni per la creazione di Halloween. Tra le principali fonti di ispirazione troviamo naturalmente ad esempio Alfred Hitchcock. Carpenter è di fatti un grande ammiratore del maestro del suspense e ha preso spunto dalla sua abilità soprattutto nel creare tutte quelle ambientazioni, quei momenti di tensione. Ha cercato di emulare l'approccio di Hitchcock nel costruire il terrore psicologico e soprattutto nel giocare con le aspettative dello spettatore che in quel momento stava guardando il film. C'è poi The Texas Chainsaw Massacre del 74, un film di Toby Hooper che si è ispirato a dei fatti realmente accaduti. Di questo ne abbiamo già parlato in un altro video che se non avete visto vi lascio qua sopra da qualche parte o comunque linkato qua sotto nella descrizione in caso vogliate andarlo a recuperare. Da questo film ha tratto quell'atmosfera claustrofobica e disturbante che lascia il pubblico costantemente in tensione. Un altro film che ha ispirato Halloween è sempre del 74 ed è Black Christmas di Bob Clark. Questo film ha introdotto il tema del killer invisibile che minaccia delle ragazze in casa durante le vacanze. Partendo da questa premessa Carpenter ci ha costruito intorno tutta la storia di Halloween arrivando poi anche alla definizione appunto del personaggio di Michael Myers. Un altro tratto distintivo di questo film è sicuramente la colonna sonora. Per arrivare al risultato finale Carpenter si è ispirato a quella dello squalo composta da John Williams della quale si è particolarmente innamorato e della quale comunque ricordiamo tutti quanti anche perché sono proprio quelle musiche che rimangono impresse, quelle orecchiabili, quelle proprio azzeccate e quindi si è ispirato insomma a questo stile poi per arrivare alla colonna sonora di Halloween. Perciò diciamo che Halloween è la combinazione di eventi reali, di spunti presi dai grandi maestri del cinema unita anche alla creatività di Carpenter che tutti insieme hanno portato alla nascita di un film che è diventato un film cult del genere e che ha influenzato anche le generazioni future e difatti stanno continuando a cacciar fuori nuovi capitoli di questa saga. Ma ora arriviamo al punto critico di tutto questo video perché ok io avevo chiesto queste cose a John GPT ma le avevo anche chiesto di raccontarmi la vera storia che ha ispirato il personaggio di Michael Myers e qui ho incontrato un piccolo ostacolo che non avevo considerato probabilmente ho scritto male io il prompt oppure ci sono ancora dei malfunzionamenti tra virgolette naturalmente interni a John GPT sta di fatto che la storia che ne è risultata è inesistente se l'è inventata prendete con le pinze questo se l'è inventata so benissimo che un'intelligenza artificiale non può inventare perché non ha proprio il concetto dell'invenzione però fatemi passare questo termine la semplifichiamo così se no ci perdiamo in tecnicismi che neanche io so gestire quindi fingiamo che se la sia inventata si è inventata questa storia che di fatto non esiste e non si trova nulla da nessuna parte quando ho ottenuto la risposta poi naturalmente ve la racconterò perché comunque è molto bella è uscita anche molto carina sono andata a ricercare a fare quindi una contro ricerca per verificare un attimino queste informazioni perché per l'appunto non ne avevo mai sentito parlare ed è strano che io non sappia proprio zero di queste cose non sto dicendo che so tutto perché non so proprio niente però mi ha puzzato un pochettino essendo questo un film abbastanza famoso e di fatti questa persona questo ragazzino in realtà del quale vi racconterò a breve non è mai esistito la sua storia non è mai esistita non se ne trova traccia da nessuna parte neanche in articoli in inglese o comunque andando a fare delle ricerche un pochettino più approfondite c'è stato un mix un mash up di informazioni prese secondo me dalla trama del film a un altro personaggio che effettivamente riporta questo nome ma che è stato un terrorista neonazista di tutto di più che ha fatto un casino insomma nella seconda metà del novecento e poi ha creato insieme probabilmente con dei calcoli logaritmici suoi interni che io non so minimamente neanche di che cosa sto parlando ed è saldato fuori con questa storia vi ho fatto tutta questa premessa perché sono curiosa di sapere la vostra opinione non mi interessa che non siate dei tecnici non lo sono neanche io però è interessante anche aprire questo discorso quindi ora ve la racconto e poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate ho deciso di raccontarvela perché secondo me comunque è una storia carina da raccontare la vera storia che ha ispirato michael myers ha origine ad eddonfield nel new jersey ma i protagonisti naturalmente hanno dei nomi un po diversi la storia si svolge nel 1963 e il protagonista è un ragazzo molto giovane di nome jeffrey franklin è un ragazzo apparentemente normale anche a scuola insomma non si direbbe che abbia nulla che non va ma nasconde un terribile segreto a partire dal fatto che arriva da una famiglia non proprio del tutto carina e coccolosa diciamo il papà è un padre violento la madre una madre negligente e questo lo porta a vivere all'interno di un nucleo familiare composto da abusi e violenza il 31 ottobre del 1963 proprio durante la notte di halloween jeffrey miete la sua prima vittima si reca vestito da clown nella casa di judith la sua vicina di casa 17enne armato da un coltello da cucina judith vedendosi arrivare di fronte questo ragazzino armato è rimasta un po sconvolta un po confusa da quello che stava succedendo sta di fatto che ha subito una violenta aggressione jeffrey l'aggredita con questo coltello e l'ha uccisa scappa dalla scena del crimine ma naturalmente il corpo di la giovane judith viene ritrovato immediatamente e la polizia riesce a risalire subito al colpevole e quindi al nostro jeffrey che viene immediatamente rinchiuso all'interno di un ospedale psichiatrico il problema è che durante il tutto il suo periodo di internamento questo ragazzo si è chiuso sempre più in se stesso fino a quasi a cancellare ogni sorta di emotività ormai non era più in grado di provare compassione o pietà era diventato totalmente un'altra persona non parlava con nessuno non aveva non intratteneva più nessuna interazione sociale rimaneva sempre chiuso nella sua solitudine rimase in questa struttura fino al 1978 all'età di 21 anni crescendo sempre di più questo sua rabbia e questo suo rancore fino a che per l'appunto arrivati a quest'anno e arrivata al 78 riesce a fuggire da questa struttura per poter portare avanti i suoi piani di morte e terrore durante la notte tempestosa dell'halloween del 78 jeffrey indossa una maschera bianca si arma di coltello e torna ad eddonfield qui il suo obiettivo è lori strode una giovane babysitter che vagamente gli ricorda judith la sua prima vittima perciò jeffrey si infila nella casa in cui lori sta per l'appunto facendo da babysitter indossando questa spaventosa maschera e avvicinandosi lentamente con il coltellaccio in mano la ragazza naturalmente è terrorizzata da questa visione ma per fortuna la polizia era stata allertata della fuga di jeffrey dalla struttura psichiatrica e quindi si era immediatamente mobilitata per rintracciarlo e non si sa bene come era riuscito a risalire alla sua prossima vittima e quindi è riuscita ad intervenire prima che accadesse il peggio ha trascorso tutta la sua vita inchiuso in una prigione di massima sicurezza lontano dalle sue vittime e gli è stato impedito quindi di portare avanti il suo regime di terrore in conclusione la storia di jeffrey franklin ci mostra come il male possa nascondersi dietro quella che sembra una facciata o un'apparenza di normalità è un monito questo che ci ricorda quanto la realtà possa essere più terribile spaventosa della fantasia questa è la storia che chat gpt mi ha raccontato quando io gli ho chiesto di raccontarmi la la vera storia che ha portato alla creazione di michael myers io per l'appunto come vi dicevo non trovando nessuna di queste informazioni non trovando niente riguardante questo giovane jeffrey franklin gli ho chiesto dove avesse trovato queste informazioni e qui ha dovuto ammettere che non esistono mi risponde infatti mi scuso per la confusione precedente mi sono sbagliato nel fornirti informazioni sulla storia di jeffrey franklin come ispirazione per il personaggio di michael myers in halloween non ci sono prove o fonti attendibili che collegano un individuo di nome jeffrey franklin alla creazione del personaggio di michael myers o al film halloween la storia che ho raccontato precedentemente era puramente immaginaria e non basata sui fatti reali al che gli ho chiesto ma l'ha inventata tu la storia e la risposta è stata sì mi scuso ancora una volta per l'inconveniente la storia che ho raccontato su jeffrey franklin e la sua connessione con il personaggio di michael myers in halloween era del tutto inventata non ci sono basi o fonti veritiere per supportare tale narrazione perciò che dire c'è gpt ci voleva ingannare ma noi siamo più furbi perché noi sì che siamo delle intelligenze non le intelligenze artificiali che a quanto pare di intelligente hanno ben poco sono più che altro molto bravi a mentirci perché potevamo cascarci perciò non credete a tutto quello che leggete non credete a tutto quello che sentite abbiate sempre una mente critica per andare un po a ritrovare le informazioni e a verificarle in questo caso c'ha gpt ci voleva fregare ma non c'è riuscito perché per l'appunto questa storia per quanto possa essere molto interessante è totalmente inventata perciò ora fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate un po di tutto questo video e dell'ultima parte e di questa storia e fatemi anche sapere se siete curiosi di avere un video invece scritto da me in cui faccio tutte le mie ricerche del caso in cui vado ad indagare le vere fonti di ispirazione di michael myers a quanto pare vi avviso già che non ce n'è molto ci sono dei nomi che saltano fuori ma anche lì ci sono dei grossi dubbi ma basta fare delle ricerche un pochettino approfondite sono sicura che qualcosa salterà fuori quindi scrivete qua sotto nei commenti e poi potremo parlarne ancora ditemi anche quali altri contenuti quali altre domande volete fare a cia gpt io ho ancora delle richieste dal video precedente che naturalmente vi proporrò nel prossimo video e che dire a me questo format piace molto perché mi sto molto affascinando a questo tema sull'intelligenza artificiale sul quale tra l'altro con un gruppo con cui collaboro di altri comunicatori della scienza stiamo organizzando un laboratorio previsto per questo settembre e qui diciamo che sono dentro a tutte queste dinamiche e spero di riuscire poi ad avere delle spiegazioni anche più tecniche da potervi fare magari nel prossimo video o la prossima volta che cia gpt ci scrive una fregnacciata e anche per oggi è tutto io vi ringrazio di essere rimasti con me fino alla fine mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e non dimenticatevi anche di condividerlo con tutti i vostri amici e amiche che possono essere interessati all'argomento tutte queste azioni mi sarebbero molto utili per far capire all'algoritmo di youtube che forse i miei video potrebbe anche farli vedere a giusto quel paio di persone in più che non farebbe così male e anche naturalmente mi farebbe molto piacere e mi aiuta a capire quali sono i contenuti e i tipi di video che vi interessano di più naturalmente io vi ricordo sempre che potete tranquillamente scrivermi qua sotto nei commenti o su vg ho sempre qualche bisticcio con la ricezione delle notifiche ma io cercherò di rispondervi sempre in caso abbiate qualche richiesta o qualche suggerimento per degli argomenti da trattare o per i video futuri vi ricordo anzi vi annuncio per la prima volta perché continuo a dimenticarmi un po che c'è ma mi passa di mente qui sotto in descrizione trovate anche un link attraverso il quale se volete potete sostenere ulteriormente il canale offrendomi un caffè c'è il link potete andare cliccare fare insomma tutto quello che volete comunque trovate tutto nella descrizione quindi non dimenticatevi di leggerla perché vi lascio sempre delle informazioni molto interessanti anche dei link eventuali di approfondimento e adesso vi giuro e vi stragiuro che è veramente tutto io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao